la chirurgia robotica appunto in generale e quindi essendo lei un chirurgo ovviamente in chirurgia soprattutto nella chirurgia mini-invasiva. Due grossi capitoli che sono fondamentali per la chirurgia generale sono la biliopancreatica, gli interventi al fegato, gli interventi al pancreas, gli interventi allo stomaco e al colon. Il colon che ultimamente sta addirittura assurgendo ad uno dei protagonisti per la chirurgia robotica perché prima si considerava un organo difficile da trattare con un robot che ha dei movimenti un po' fissi. Adesso si è capito anche la malattia di Crohn può essere benissima approcciata con il robot perché la mini-invasività permette la ripetizione dell'intervento in una malattia che nel corso della vita si ripete più di una volta. Parliamo adesso di durata dell'intervento. Rispetto alla tecnica tradizionale, con la tecnica robotica il tempo dell'intervento, la durata dell'intervento diminuisce o no? Il tempo dell'intervento in realtà sembra apparentemente maggiore ma ottimizzata la risposta sia degli operatori che dei chirurghi riesce a pareggiare diciamo quello che sarebbe il tempo standard per l'intervento con tecnica open. Possiamo sicuramente dire che in ogni caso anche se dovesse durare per alcune patologie un attimino di più l'intervento, il beneficio per il paziente è enorme perché può andare a casa, entro e sicuramente metà tempo rispetto all'intervento classico. Per farvi un esempio, un intervento al pancreas che prima aveva bisogno di una dimissione dopo 12-14 giorni, adesso dopo 8 giorni è possibile far dimettere il paziente. Ciò significa che avendo fatto un intervento di questo genere anche a livello di cicatrizzazione avviene in maniera più veloce? Ma soprattutto, soprattutto come godibilità del paziente, il paziente assolutamente non ha percezione del dolore, non c'è la classica laparotomia, cioè il taglio in addome, ci sono tre piccoli forellini, quattro piccoli forellini tra 5 e 8 mm e tutto si risolve, infatti è paradossale, l'indomani il paziente non ha neppure la sensazione di essere stato operato. Senta, ma chiunque si può sottoporre a questo tipo di chirurgia con la chirurgia robotica oppure ci sono ovviamente delle eccezioni? Bisogna essere in buone condizioni generali per la laparoscopia, cioè per poter essere sottoposti a un intervento di laparoscopia. Però adesso con nuove macchine, nuovi respiratori, nuovi device che noi abbiamo, che si chiamano AirSeal, si può fare anche la laparoscopia, cioè immettere gas in addome con una tecnica robotica, anche a chi è un cardiopatico e teoricamente non potrebbe sostenere un intervento in robotica. Senta, a chi ci sta guardando da casa la prima cosa che viene in mente è questo, ma è una tecnica indolore rispetto alla tecnica tradizionale oppure il paziente ha qualche fastidio in più? La tecnica è quasi totalmente indolore perché è assolutamente supportata da piccole cicatrici, non viene lasciata traccia del passaggio della mano meccanico umana e non ci sono assolutamente esiti postoperatori o grossi cicatrici che lasceranno il segno del dolore anche in caso di chirurgia toracica. Bisogna anche dirlo, l'applicazione in chirurgia generale e toracica sono al massimo della performance per quanto riguarda la mancanza del dolore. Diciamo quindi che il futuro si andrà a concentrare sempre maggiormente verso la chirurgia robotica. Il futuro sicuramente è questo, intanto per la magnificazione dell'immagine si vede bene, si vede in 3D e si vede una cosa che l'occhio umano con la nuova tecnologia dell'offluorescenza non riesce neppure a vedere. I movimenti sono assolutamente raffinatissimi, amplificabili e la capacità di questa macchina che bisogna mettere in evidenza è la capacità ricostruttiva. Non è soltanto demolire un tumore che ci dà orgoglio e tecnologia, è entusiasmo nella radicalità, ma è anche la capacità di questa macchina a ricostruire l'organo, a ricostruire la continuità di un intestino, a ricostruire quello che il chirurgo normalmente demolisce. Dottore Piazza, lei si occupa di urologia. Allora, vediamo un po' l'applicazione della chirurgia robotica in urologia. Beh sì, grazie. Innanzitutto mi piace precisare un particolare, cioè il robot è in effetti uno strumento chirurgico molto sofisticato, però dobbiamo sfatare l'idea che magari a volte nel paziente c'è quello che sia il robot a operare. Cioè il robot è uno strumento, dietro il robot c'è sempre un chirurgo. Nel campo urologico noi utilizziamo, diciamo, il robot, che non è altro che un'evoluzione della laparoscopia, quindi una chirurgia mini-invasiva, e lo facciamo sia sul rene, dal punto di vista oncologico, sia nelle procedure ricostruttive delle anomalie congenite, sia sulla vescica, però devo dire che l'organo che è indubbiamente la fada padrone in urologia è la prostata, con il tumore della prostata, in quanto che parliamo di un tumore che oggi è sempre più, diciamo, presente, diffuso in età, grazie alla diagnosi precoce, in età giovanile, è che è un tumore il cui cura comporta inoltre delle sequele che in un soggetto giovane, come l'incontinenza urinaria o l'impotenza sessuale, che grazie al robot, proprio per la sua finezza nell'articolazione degli strumenti all'interno, nella magnificazione dell'immagine, è possibile, grazie al robot, fare delle procedure chirurgiche che siano radicali dal punto di vista oncologico, ma che consentano anche sulla prostata di risparmiare i fasci vascolonervosi che corrono appunto lateralmente alla prostata, potendo consentire a questi pazienti sempre più giovani e sempre più numerosi di guarire dal tumore, ma mantenere e conservare una qualità di vita sicuramente più accettabile, potendo mantenere sia una buona continenza urinaria dopo l'intervento e anche una ripresa della funzione sessuale. È chiaro che questa non è una garanzia, però sicuramente con l'impero del robot si riesce a farlo in percentuali sicuramente più elevate. Ma oltre, diciamo, a quella patologia, abbiamo parlato di carcinoma, quali sono le patologie in urologia dove effettivamente può essere applicata questa chirurgia robotica? Ecco, come le dicevo, sicuramente l'enoplasia, i tumori del rene, dove si può procedere con l'asportazione totale del rene o con l'asportazione parziale del solo tumore, conservando appunto l'organo. La patologia, le anomalie congenite, che sono molto frequenti nei giovani, dove si procede con ricostruzioni, dove quindi l'impiego di punti, suture, viene facilitato sicuramente dall'utilità della macchina, del robot. Si può impiegare poi anche nella patologia neoplastica della vescica, dove le indicazioni sono un po' più ristrette rispetto agli altri organi, ma come ripeto, e ci tengo a precisarlo, quello che è, diciamo, l'intervento in cui forse l'impiego del robot trova il massimo dell'applicazione, dei benefici per il paziente, è il tumore della prostata. Dottore Piazza, in sostanza, allora, il paziente che deve sottoporsi a questo tipo di interventi ne ha anche qui in urologia un vantaggio post-operatorio, di recupero post-operatorio? Assoluto, perché praticamente viene minimizzato il dolore, vengono minimizzate le cicatrici chirurgiche, praticamente il paziente in seconda o terza giornata spesso può andare a casa e, pur avendo ricevuto un intervento complesso, di fatto non risente delle conseguenze negative. Dottore Guarrasi, allora siamo alla fine, insomma, diciamo allora che questa chirurgia robotica è la chirurgia del futuro? Sicuramente sì, certamente è la chirurgia del futuro, che non ha smesso di evolversi, che non ha smesso di trovare sempre più device, cioè dei pezzi così piccoli, così importanti, così tridimensionali, anche nel loro modo di agire dentro il nostro corpo, che sicuramente sarà il futuro, già si parla di single port robotica, cioè di interventi soltanto da una porta, dalla quale usciranno varie bracci e sembra che sia di prossima distribuzione un robot che possa consentire gli stessi interventi che facciamo con questo robot con tre, quattro braccia, addirittura soltanto da un orifizio. Amici telespettatori, eccoci arrivati alla fine di questa puntata, io naturalmente ringrazio l'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello per averci mandato questi tre professionisti, che ringrazio ancora il dottor Fulvio Piazza. Grazie, grazie a voi, saluti ai telespettatori. Il dottor Domenico Guarrasi. Grazie a voi. E il professor Antonio Perino. Grazie a voi tutti. Grazie ancora per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Salute e Benessere. Arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti